fai il nodo al portice e al mignolo ora rivolgi il guanto all'infuori gonfai il guanto e inverti il dito medio all'interno del guanto e fai un nodo ora tagli la punta di una delle due dita e la gonfi puoi utilizzare una cannuzza che sto usando il tappo di un pennarello cavo una volta che le gonfio prendi le due estremità e fai un nodo in modo da creare una vagina o un ano a questo punto basterà aggiungere un po' di lubrificante e sarà possibile iniziare a vivere